Per rischio si intende la possibilità di perdita permanente di capitale. Invece molto spesso parlate di volatilità, come ad indicare che non si perdono mai soldi con un investimento finanziario. Che cos'è il rischio? Che cosa si intende per volatilità? E come puoi investire senza perdere soldi? Approfondiamo tutto questo e tanto altro in questo video. Dopo oltre un anno di lavoro abbiamo ufficialmente lanciato Vendaos, che è il nostro instant buyer operativo su Modena, Reggio e Bologna. E visto che molte persone ce l'hanno chiesto, ci hanno chiesto come facciamo a fare così tante operazioni, abbiamo deciso di creare un nuovo brand chiamato Piano Immobiliare, che ti permetterà di capire come diventare un investitore immobiliare profittevole e finalmente imparare da persone che fanno effettivamente investimenti immobiliari e che soprattutto non hanno conflitto di interesse, perché come saprai ci muoviamo tra investimenti immobiliari, investimenti finanziari e siamo in grado di trovare le migliori opportunità da entrambi questi mondi. L'offerta lancio per accedere a questo evento di formazione sul settore immobiliare, che si terrà a ottobre a Modena, termina domenica 26 giugno. E ovviamente c'è una scontistica particolare per tutti quelli che per primi prenderanno i biglietti per questo evento imperdibile che si terrà a ottobre. Se vuoi maggiori informazioni, clicca il link qui sotto oppure contate al mio team all'indirizzo pianofinanziario.it. Ciao! Inizio oggi in modo non particolarmente ufficiale una nuova rubrica di questo canale che potremmo chiamare Giorgio risponde. Quindi quando vedi uno dei nostri contenuti e scrivi un commento, una domanda, sappi che il team di Piano Finanziario legge tutti i commenti e spesso trova degli spunti, come quello di oggi, per nuovi video. Quindi se hai delle domande, se c'è qualcosa che non ti è chiaro relativamente ad un video, un contenuto che produciamo, scrivilo sempre nei commenti perché il tuo commento potrebbe essere l'idea per un contenuto futuro. Bene Giacomo ci fa una domanda relativa al tema del rischio e della perdita, perché dice il rischio è la possibilità di perdere permanente del capitale, ad esempio obbligazioni Parmalat. Ma invece spesso si parla di volatilità, come ad indicare che non si perdono mai soldi con un investimento finanziario. Può essere che con un orizzonte temporale elevato il rischio si annulli diventando volatilità? La risposta è dipende, come al solito, dipende, ma non perché mi piaccia fare sofisticato, ma perché esistono tante tipologie di rischio finanziario e un investitore che vuole investire autonomamente e non c'è nulla di male, se sai come si fa, deve capire che appunto ogni volta che prende decisioni relativamente ai propri investimenti sta scegliendo consapevolmente o inconsapevolmente di prendersi un rischio e non prendersene degli altri, ok? Perché esistono varie tipologie di rischio finanziario. L'obiettivo di questo video è d'arto in infarinata, è ovvio che se vuoi approfondire non è che facciamo dei corsi di 15 ore perché ci piace allungare il brodo, è perché la tematica è complessa e serve entrare nel dettaglio delle cose. Se uno vuole investire autonomamente in modo sofisticato, altrimenti nel breve periodo magari non ti accorgi del rischio che ti sei preso, ma te ne accorgi poi al primo crollo. Quindi, breve parentesi, noi siamo grandi sostenitori dell'investimento individuale, fatto studiando, per questo creiamo percorsi di formazione, ma l'importante è che o studi autonomamente o ti fai affiancare da qualcuno che ti aiuti a fare queste valutazioni sul rischio. Bene, perché appunto di rischio non ce n'è uno solo, esistono varie tipologie di rischio e Giacomo, che ci ha dato appunto l'idea e lo spunto per questo video, vede due tipologie di rischio. In particolare il rischio fallimento, ok, che è il rischio che sta menzionando appunto il fatto che Parmalat a suo tempo fallì e di conseguenza tutti gli investitori in obbligazioni Parmalat avevano un valore di X migliaia di euro. In occasione del fallimento di Parmalat questo valore si è drasticamente ridotto o potenzialmente annullato completamente, ok? Quindi il rischio fallimento è il rischio che io oggi in mano ho una cosa che vale 100, domani l'azienda in questione, lo stato in questione che ha emesso questo titolo di debito, questa obbligazione, fallisce, io ottengo zero. Il rischio fallimento ce l'hai anche nel caso di una società, ok? Investa nell'azione tal dei tali, l'azienda fallisce, gli azionisti sono i primi che perdono il capitale prima degli obbligazionisti perché questo per procedura fallimentare, di conseguenza sei esporso fortemente quando scegli un titolo azionario o obbligazionario a rischio fallimento. Questa è la prima tipologia di rischio che capisce chiunque, cioè il rischio di non avere soldi indietro, in altre parole. Poi esistono varie tipologie di rischio, il rischio volatilità, esempio. Il rischio volatilità è il rischio derivante dal fatto che tu hai il prezzo del tuo investimento che è volatile, che non è costante. Mercati azionari, rischio volatilità. Mercato immobiliare, non particolare rischio di volatilità nel breve periodo. Perché? Perché nessuno ha una quotazione di casa tua, tu non sai giornalmente quanto cambia il prezzo di casa tua, ok? Sai nel lungo periodo, magari con rilevazioni semestrali, come sta andando l'intero mercato della tua zona, della tua città o a livello italiano. Quindi sei esposto più che altro all'evoluzione del prezzo, del valore di quella classe di investimento nel lungo periodo, ma non ha la volatilità nel breve. Nei mercati finanziari la volatilità è appunto il fatto che oggi ho un titolo che vale 100 e domani c'è una brutta notizia, cambia la percezione degli investitori relativamente a quel titolo lì e il titolo fa meno 20% in un giorno, ok? Già successo. Netflix in un giorno, qualche settimana fa, quando ha annunciato per la prima volta un calo degli iscritti, ha fatto meno 30% in un giorno. L'azienda è fallita? No, cioè almeno non nell'immediato, ok? Però c'è il rischio volatilità, la stessa azione prima valeva 100, dopo vale 70 perché ha perso meno 30% di valore. Esistono varie tipologie di rischio, esiste anche il rischio valutario, il rischio di credito, il rischio di tassi di interesse, varie tipologie di rischio finanziario. E torno alla frase di prima, consapevolmente o inconsapevolmente, ogni volta che compri qualcosa dentro la categoria investimenti, sei esposto ad uno o più di questi rischi. Aggiungerei che c'è anche ad esempio il tema del rischio illiquidabilità, ok? Compro una cosa che domani nessuno vuole comprare. Sulla carta vale 100, però non trovo compratori. Tipico rischio a cui si trova di fronte un investitore in immobili. Magari per te la casa vale, magari il valore è anche riconosciuto dal mercato, ma sei in una città, in un quartiere che è poco liquido e non trovi compratori. Questo è un rischio che la maggior parte degli investitori immobiliari non considera. Bene, ma torniamo alla domanda di Giacomo, dal momento che adesso abbiamo un po' più chiaro che cos'è il rischio. Può succedere che aumentando l'orizzonte temporale il rischio si annulli e diventi volatilità? La risposta è sì se non compri titoli singoli, ok? Quindi se tu acquisti un paniere diversificato di azioni o obbligazioni attraverso un fondo o un etf, quindi se elimini il rischio fallimento perché hai diversificato questo rischio su più titoli differenti, allora la risposta è sì. C'è sempre la postilla che dipende con quale veicolo stai facendo questo investimento. Nel senso che se utilizzi un fondo comune di investimento bancario che ha all'interno obbligazioni che rendono il 2% e il fondo costa il 3% è matematicamente impossibile guadagnare, hai un veicolo di investimento che costa tantissimo, un fondo che costa tantissimo e quindi è profondamente inefficiente, di conseguenza lì ci sono altre tipologie di rischio e devi approfondire. Quindi comunque non sottovalutare lo strumento che utilizzi per investire. Un fondo chiaramente è molto più inefficiente e costa di più di un etf, un etf nella maggior parte dei casi ti permette di diversificare a costi molto ridotti. La prova che all'aumentare dell'orizzonte temporale si riduce il rischio di perdere soldi nei mercati finanziari, in altre parole è questo, e dobbiamo solo accettare la volatilità e che in altre parole la volatilità si riduca col passare del tempo, la troviamo dalla storia dei mercati finanziari, per questo è bello investire nei mercati finanziari, perché se li studi, se approfondisci, se non ti lanci come la casalinga di Voghera che invece è ehi compriamo tutti Tesla e compra Tesla, ecco non quello, bene se li studi e li approfondisci hai dati storici che partono da metà dell'Ottocento, ok, e ti permettono di capire il comportamento del mercato in determinati contesti, ok, il passato non è in alcun modo garanzia del futuro, però quantomeno ci prepara. Quello che vediamo è il comportamento di azioni, obbligazioni e un portafoglio diversificato, azioni e cioè 50% azioni, 50% obbligazioni, in vari orizzonti temporali, ok, un anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni, quindi in altre parole che cosa ha fatto nel periodo di analisi dal 1950 al 2019 l'azionario americano in termini di rendimento, bene, in un anno di detenzione di un ETF azionario per dire, nel migliore dei casi hai fatto più 47%, nel migliore dei casi in un anno hai fatto meno 39%, se ti tenevi questo stesso paniere di titoli per 5 anni, nel migliore dei casi avresti fatto in questo orizzonte temporale, ok, avresti fatto il 28%, nel peggiore dei casi meno 3%, quindi come vedi la volatilità se ti tenevi per 5 anni quel determinato ETF azionario per dire, si riduceva, 10 anni, 19 meno 1, 20 anni, questo è quello che non capiscono in tanti, è 17 più 6, significa che storicamente dal 1950 al 2019 non c'è un ventennio in cui un investitore con il 100% del patrimonio investito in azioni non abbia avuto un rendimento positivo, ok, lo ripeto, per chi ha investito per almeno 20 anni in azioni, dal 1950 al 2019, non c'è mai stato un ventennio con un rendimento inferiore al 6%, nel migliore dei casi è stato il 17%, quindi questo è per farti capire che i mercati hanno comunque un vento favorevole, come se fossimo in mare aperto con la nostra barca a vela, che spinge, a volte si ferma, a volte diventa burrasca, ma storicamente se stai sufficientemente a mercato, 15-20 anni, non hai scenari, o meglio riformano, non ci sono stati scenari di perdita per un portafoglio 100% azionario detenuto per almeno 20 anni. Se guardiamo cosa succede alle obbligazioni, vediamo che ad un anno abbiamo visto un più 43% per l'obbligazionario, questi sono titoli di Stato americani, e lo scenario peggiore è un meno 8, in realtà lo scenario peggiore non è il meno 8, è il 2022, questa tabella non arriva al 2022, ma quello che vediamo oggi, l'abbiamo già commentato in altri video, è il peggiore inizio dell'anno per l'obbligazionario, inclusi i titoli di Stato, quindi questo andrebbe ricorretto perché questo meno 8 probabilmente è un meno 10 per l'obbligazionario. E come vedi, anche per l'obbligazione la volatilità si riduce all'aumentare del tempo, perché questi minimi e massimi diventano più vicini. Lo stesso vale per un portafoglio diversificato, 50% azioni, 50% obbligazioni, con un migliore anno del 33% di crescita, peggiore anno, meno 15% di crescita, escluso il 2022 che avrebbe messo in forte crisi anche questo portafoglio, perché come abbiamo detto in altri video, questo è un anno atipico, in cui azioni e obbligazioni stanno scendendo in modo sincronizzato, quindi anche un portafoglio diversificato non è particolarmente diversificato in questo momento, non ci sta salvando, questo può succedere, storicamente si è già verificato, in pochi casi ma si è già verificato. Con il passare del tempo però un portafoglio 50% azionario, 50% obbligazionario, è cresciuto in un range tra il 5% all'anno, questi sono tutti i rendimenti annualizzati, fino ad un massimo del 14% all'anno. Quindi la risposta alla domanda, se aumenta l'orizzonte temporale, si riduce o annulla il rischio volatilità? La risposta è nel breve periodo sì, se diversifichi il rischio eliminando il rischio fallimento, in altre parole scegliendo fondi o ETF che diversificano il tuo investimento in una moltitudine di strumenti finanziari e di titoli. E la prova di questo la trovi appunto nel comportamento dei mercati finanziari negli ultimi 70-80 anni. La premessa importante è sempre quella che quando scegli un ETF o un fondo devi sapere quale indice stai andando a replicare, quanto costa lo strumento, come è fatto l'indice, quindi non solo quale ma come è fatto, capitalizzazione, equal weighted, ok? Che cosa c'è dentro, cosa sto andando a tracciare, perché gli indici non sono tutti uguali, guarda che cosa sta succedendo a un Nasdaq rispetto ad un S&P 500 equal weighted, non c'entrano niente come comportamento l'un l'altro, il primo è stato massacrato dal mercato, il secondo invece ha retto ragionevolmente bene e c'è una ragione ben precisa per cui al mutare delle condizioni di investimento un indice si è comportato peggio dell'altro. Quindi si diversifica, si scegli degli indici o dei fondi che siano efficienti nel replicare il comportamento di un'intera classe di investimento e così facendo puoi ridurre l'effetto della volatilità ed escludere completamente il rischio fallimento o anche detto rischio insolvenza. Fammi sapere quali sono le tue riflessioni nei commenti, se ci fai delle domande interessanti potremo rispondere con un altro video come questo, clicca mi piace, iscriviti al canale perché questa è vera educazione finanziaria, ti saluto, ci vediamo in un altro video, ciao!